Partiamo da quest'ultima dichiarazione, quella di oggi, per fare un po' il punto della situazione. Benissimo, io corgo l'occasione anche per ringraziare sia il sindaco di Vallo e il sindaco di Ascea, perché sollecitano sempre il parlamentino della Comunità del Parco. Questo sta a significare che vogliamo dare una nuova funzione, una nuova governance sul territorio. Ebbene, per fare questo occorre che si diano delle regole certe, anche per il funzionamento. Qual è la funzione specifica di questo? Io mi sono recato personalmente al Senato, dove si sta dibattendo il futuro delle entità, degli enti parco, come sono strutturati. E quindi su questo punto, l'ho detto più volte, dobbiamo darci una regolata per dire qual è il comito. Io capisco che… Ricordiamo che la Comunità del Parco è composta da tutti i sindaci. Ma è composta da 90 persone. Allora potrebbe essere un parlamentino la Comunità del Parco, cioè la Comunità Mondana, potrebbe essere un parlamentino anche altri enti. Noi abbiamo il distretto sanitario ben guidato da Andrea Salati, dove è proprio specifico. Io mi meraviglio che Mario Rizzio, che è una persona attenta, accurata, seria, abbiamo combattuto insieme per le poste. C'è la conferenza dei sindaci. Qua vedo anche un articolo che mi dispiace di solidarietà a Maria Stella Gianni, che è una nostra componente in questa conferenza dei sindaci, guidata da Andrea Annunziata. Quindi ci sono gli elementi e gli strumenti per poter far fronte a queste esigenze. Ma io dico una cosa molto che sia chiara. Tutto si può fare su un territorio, ma che i sindaci si dividano è la cosa peggiore. Noi dobbiamo marciare uniti, fare, scegliere gli obiettivi. Quindi al momento secondo lei c'è poca unità tra i sindaci? Ma non dico questo. Cioè ognuno pensa di dire qualcosa di più di un altro. Io sono attendo a tutte le problematiche. Qualcuno potrà dire, diceva voi, che cosa avete messo in gamma? Ebbene, noi anche nel nostro piccolo abbiamo portato, se uno si va a guardare, l'ordine del giorno, del passato, sempre i problemi sanitari, nonostante non siano temi. Ci sono state delle comunità che si sono occupate. Sì, ci sono occupate, ma lo stesso sindaco di Vallo ha promosso un'iniziativa che abbiamo partecipato tutti quanti i sindaci, mi pare una cinquantina di sindaci del territorio, cosa che non è mai stata realizzata. Quindi quando si dice questo, io posso prenderne atto, allora fateci le proposte e ci muoviamo. Però non è che vorrei che un po' la Corte dei Conti domani mi dice, ma tu hai posto all'ordine del giorno. Di che cosa dovrebbe occuparsi la comunità del parco del Cilento? La comunità del parco, più che occuparsi, si può occupare un po' di tutto, ma più che occuparsi, dà dei suggerimenti sul territorio, ma sui problemi ambientali, sui problemi dello sviluppo, sulla programmazione. Non è che la sanità, allora che serve questo responsabile del distritto oppure il responsabile dell'area Salerno 1 dei sindaci? Allora se vogliamo dare ad ognuno un compito diverso da quello che è stabilito dalla legge, benvenne io sono qui.